www.infocorsi.it 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 e in realtà mi vengono chiesti ancora con delle finestre delle conferme e quindi continuare io vado a cliccare sì, continuare vado a cliccare sì e poi ancora ok. Eccomi sulla pagina di creazione dell'account, l'account sarebbe in un certo senso l'abbonamento anche se in questo caso stiamo parlando di un servizio gratuito ma pur sempre di account si parla. Bene, iniziare ad usare Gmail, bisogna iscriversi quindi dare il proprio nome e cognome, io adesso ne metto uno fasullo, ecco Roberto Brambilla per esempio. Poi la cosa più importante in realtà non è tanto il nome e cognome ma quanto la scelta del nome di accesso, detto anche username o nome utente appunto in italiano o anche nickname, si potrebbe dire che nickname vuol dire pseudonimo, cioè in pratica è un nome, può essere il mio vero nome o anche un nome inventato che io utilizzo per la mia casella di posta elettronica. E questo nome che sceglierò verrà poi nel mio indirizzo di posta prima della chiocciolina perché poi dopo la chiocciola c'è il nome del servizio che utilizzo che in questo caso è gmail.com. Quindi è molto importante questa scelta perché se scelgo un nome incomprensibile o comunque difficile da dettare per telefono per esempio, sarà poi complicato quando dovrò comunicare il mio indirizzo di posta alle persone che mi devono scrivere. Allora per esempio posso provare in questo caso a vedere se con il nome e cognome che avevo deciso di utilizzare c'è disponibilità dell'indirizzo di posta, in che senso disponibilità? Nel senso che potrebbe esserci già qualcun altro con questo nome Roberto Brambilla. Quindi vado a cliccare, intanto specifico il fatto di non aver utilizzato né le maiuscole né lo spazio perché assolutamente non si può fare per sintassi all'interno dell'indirizzo di posta elettronica e nel caso specifico in gmail non si possono utilizzare nemmeno i trattini tra il nome e il cognome, cosa che invece in altri servizi di posta è possibile. Quindi vado a cliccare verifica disponibilità e in questo caso mi viene data una brutta notizia, nel senso che gmail mi sta dicendo che Roberto Brambilla è un nome non disponibile, è già utilizzato da qualcun altro. A questo punto io ho due possibilità, o scelgo uno dei nomi che lui mi sta proponendo, che magari però potrebbero non piacermi, per esempio questo è appunto uno di quei nomi incomprensibili e difficili magari da lettare per telefono, oppure provo io a cambiare. Mi viene in mente l'idea di invertire nome e cognome, cioè invece di Roberto Brambilla potrei scrivere Brambilla Roberto, proviamo un attimo e controlleremo se in questo caso c'è disponibilità, quindi Brambilla Roberto, vado a cliccare verifica disponibilità, ma ancora una brutta notizia, anche questo dice Brambilla Roberto non è disponibile. A questo punto una scelta che spesso viene fatta è quella di aggiungere un numero, e quindi magari posso fare Brambilla Roberto 2008, ecco, e quindi il mio nome utente diventerebbe questo, vediamo un po' se questo funziona, vado a cliccare e finalmente una buona notizia, Brambilla Roberto 2008 è disponibile, quindi ora continuando con la mia iscrizione, il mio nome, il mio indirizzo di posta elettronica sarà Brambilla Roberto 2008 chiocciolagmail.com e questo indirizzo dovrò comunicare alle persone che desidereranno scrivermi. Ora un'altra cosa importantissima è la scelta di una password, cioè di una parola segreta che conosco solo io e che mi permetta di accedere alla mia casella di posta sia per leggere che per scrivere. Ovviamente questa parola segreta intanto non deve essere di facile da indovinare per altri ed in più non deve essere comunicata a nessuno, devo conoscerla solo io. In questo caso io inserirò una password fatta di numeri e lettere mescolati tra di loro, va bene? Devo obbligatoriamente scriverne almeno 8 di carattere tra numeri e lettere, ne ho scritti 4 Ecco qui, ho scritto quindi 8 caratteri mescolati tra numeri e lettere, è la cosa più giusta perché in questa maniera non rischio che qualcuno possa indovinarla. Devo ripetere e riscrivere la stessa password anche sotto in maniera tale che Gmail possa verificare che io non stia sbagliando, cioè se ho scritto due volte la stessa password allora vuol dire che non ho fatto errori di battitura, anche perché questi pallini che nascondono i veri caratteri che sto scrivendo ovviamente poi possono portare qualche difficoltà. Bene, a questo punto Gmail ci chiede se vogliamo che su questo computer la password rimanga memorizzata, io consiglio sempre di togliere questa spunta perché altrimenti altre persone che utilizzano lo stesso computer potrebbero leggere la nostra posta mentre più sotto ci viene chiesta la cosiddetta domanda di sicurezza. La domanda di sicurezza è un sistema che potrà essere utile qualora in futuro dovessi scordare la mia password e quindi volessi appunto recuperarla in pratica in quel caso Google mi porrebbe la domanda di sicurezza e io se so rispondere potrò ottenere la mia password in questo caso io potrei scegliere una di queste domande qui, per esempio qual era il nome del tuo primo insegnante e qui come risposta ci metto Verdi Giuseppe ad esempio, in questa maniera quando mi verrà posta questa domanda io sapendo rispondere in pratica mi farò identificare da Gmail. Ovviamente sarebbe preferibile non dimenticare mai la password per non avere mai bisogno di questa domanda di sicurezza. L'email secondaria non è indispensabile, non è obbligatoria quindi la lasciamo in bianco, la lasciamo vuota. La nostra ubicazione è ovviamente Italia e qui poi c'è un altro sistema di sicurezza di Google, in pratica ora ci sta chiedendo, non lo fa solo Google ma in realtà lo fanno quasi tutti i siti che richiedono una registrazione, ci chiede di digitare questi strani caratteri, ecco c'è una M, due O, due P, E, R, I, G, N ecco poi sono scritti in una maniera quasi incomprensibile per far sì che si possa essere sicuri che chi sta facendo questa registrazione è realmente un essere umano. Questo perché ci sono dei software, quindi non degli esseri umani, che fanno delle registrazioni in automatico su questi siti gratuiti. Ovviamente questo diventa un danno per Google e tutti gli altri siti che offrono questi servizi perché vengono create poi delle caselle di posta elettronica che magari resteranno inutilizzate o peggio ancora che verranno utilizzate per questioni di spam, cioè per invio di posta indesiderata a terzi. Quindi Google per assicurarsi che non sia un software ma che sia realmente una persona, quella che ora è davanti al computer fa questa domanda. Questo perché un essere umano riesce, magari con qualche difficoltà, a riconoscere queste lettere mentre un software non potrebbe riconoscerle proprio perché è scritto in una maniera un po' distorta. Quindi io vado a ricopiarle così come sono per far capire a Google che sono realmente un essere umano e quindi dotato di intelligenza. I software non sono dotati di intelligenza ovviamente. Ora sotto ci vengono mostrate le condizioni del servizio, potrei ovviamente andare a scorrere questa finestrella per leggermi tutto il contratto ma insomma tanto si tratta di un servizio gratuito, poi se volete leggerlo lo leggerete a casa. Io invece vado ad accettare il contratto e quindi poi vado a cliccare qui accetto e crea il mio account. Se non ho sbagliato niente ora dovrebbe darmi la conferma finale. Qui devo sempre dirgli che voglio continuare. Vediamo un po'. Ecco qui, non ho sbagliato proprio nulla perché mi dice congratulazioni, la tua registrazione a Gmail è avvenuta correttamente. Prima di cominciare ci sono tre cose che devi sapere. Io adesso questa pagina non la leggo perché le conosco già ma consiglio a voi quando farete la registrazione a Gmail di leggervi questa pagina perché mi dà alcune indicazioni su alcuni servizi aggiuntivi di Gmail rispetto alle altre caselle di posto elettronico. Io invece cliccherò dove dice sono pronto, mostrami il mio account, cioè per entrare, per accedere alla mia casella di posto elettronica. Quindi sono pronto e vado a cliccare. Come vedete dice caricamento di brambilla roberto 2008, chiocciola gmail.com, cioè in pratica la casella di posta che avevamo creato. Ed eccola qui, bella e pronta. Ci sono gli stessi comandi comuni a tutti i programmi di utilizzo della posta elettronica. Ad esempio c'è il comando per scrivere un nuovo messaggio, il comando per leggere la posta in arrivo, il comando della posta inviata, il cestino e poi in più ci sono dei servizi aggiuntivi, dei comandi aggiuntivi che Gmail offre. Abbiamo già un email in arrivo, un messaggio di posta che ci è già stato inviato, in realtà ce lo ha inviato il team di Gmail, quindi è in sostanza un messaggio di benvenuto in qualità di nuovi utenti. Quindi se ora vado a cliccare qui il team di Gmail, provo a cliccare, mi appare questo messaggio in cui non ci sono altro che delle indicazioni su come appunto far funzionare il servizio. Anche questo vi consiglio di andarlo a leggere se è la prima volta che utilizzate il servizio Gmail. Benissimo, a questo punto clicco esci per uscire dalla mia casella di posta perché ora voglio provare come si farà insomma le volte successive perché questa che abbiamo appena fatto è la registrazione che va fatta solo la prima volta, mentre tutte le volte che poi vorrò utilizzare la casella di posta in seguito dovrò fare qualcosa di diverso. Quindi ora clicco esci e quindi poi vado a spiegarvi l'altro discorso. Dunque, dopo la registrazione proviamo ad usare il servizio, quindi questo è un accesso di quelli successivi alla registrazione. Dopo aver aperto l'Internet Explorer, in questo caso mi trovo sulla pagina di Google, vado a cliccare Gmail qui sopra, do conferma e mi ritrovo sempre sulla pagina iniziale del servizio. Questa volta non mi serve registrarmi, sono già registrato, ho già un nome utente per accedere, un account e quindi scrivo qui i dati che avevo creato con la registrazione, Brambilla Roberto 2008 era il nostro indirizzo. Chiocciolagmai.com non c'è bisogno di scriverlo, quindi va scritto solo il nome utente, solo la parte prima della chiocciola. Qui ci scrivo la mia password, devo stare attento a non sbagliarla, altrimenti non mi farà accedere. Io consiglio di non mettere il segno di spunto in questa casella per evitare che venga registrata, memorizzata la mia password in questo computer e che quindi poi altre persone che usano la stessa macchina possano accedere alla mia posta. Quindi io lascerei sempre vuoto questo quadratino e clicco su accedi. Do tutte le conferme che mi vengono richieste, caricamento di Brambilla Roberto 2008, chiocciolagmai.com in corso, ecco la casella di posta è stata caricata. Quindi per esempio potrei provare a scrivere un messaggio. Clicco qui, scrivi messaggio, mi apre la finestra per la creazione di un nuovo messaggio di posta e qui scrivo l'indirizzo del destinatario. In questo caso mando un'email in realtà a me stesso, cioè a Centro Computer Multiservizi, centrocm.it. Come oggetto scrivo messaggio di prova e come testo, eventualmente anche usando una formattazione, per esempio posso cambiare il colore come vedete, un po' come se fosse in Word. Come testo scrivo per esempio buon compleanno. Ecco qui, posso anche, ripeto, come se fosse in Word, anerire il testo, mettere un grassetto e via discorrendo e altre cose. Ora qui sopra c'è il tasto invia che mi permette di inviare il messaggio. Cliccando invia quindi dovrei avere conferma dell'avvenuto invio. Infatti qui sopra dice il messaggio è stato inviato. Quindi in questo caso posso essere certo che il destinatario riceverà la posta che io ho scritto.